ciao a tutti ragazzi siamo Rebby e Molly e oggi siamo in Puglia precisamente ai Caraibi del Salento guardate che bello allora che cosa faremo oggi esploreremo delle grotte magiche quindi seguiteci venite con noi lasciate un incredibile like ed iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti e ci vediamo nelle grotte andiamo venite con me vi facciamo vedere il mare che c'è qua guardate fantastico ragazzi guardate che bello c'è lo strapiombo oh mio dio allora quindi andiamo ad esplorare adesso delle grotte super misteriose ma prima per arrivarsi dobbiamo fare un percorsino esatto infatti ci siamo messi queste ciabattine ciabattine protettive così non ci facciamo male ai piedini guardate ragazzi guardate quegli scogli giganti laggiù vogliamo andare proprio lì a vedere cosa c'è e poi in una grotta sotterranea qua di sotto ok Rebby stai molto attenta dove metti i piedi infatti guarda qua siamo nel bosco selvatico oh mamma mia attenti perché qui si casca se cadiamo facciamo un bel bagno facciamo un bel bagno stai attentissima Rebby eh stai attenta ok passiamo di qua per le grotte dobbiamo passare di qua non dobbiamo perderci eh di qua sei sicuro che non sia di qua no no di qua vieni vieni a un coyote un lupo vieni vieni Rebby continuiamo allora dobbiamo scendere tutto là eh ehi molli ti ricordi il gioco meh 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 Willy il coyote eh Rebby prima te prego eh eh dai andiamo non abbiamo paura siamo Rebby e molli noi noi siamo forti siamo Rebby e molli andiamo a conquistare la Puglia la Puglia conquistiamo la Puglia andiamo andiamo in Puglia 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 allora andiamo di qua adesso eh ci stiamo addentrando allora potremmo incontrare orsi forse sarà meglio mettere per terra delle mollichine di panno eh sì così arrivano gli orsi così tu te le mangi tutte come l'ultima no no è di qua è di qua guarda secondo me da qualche parte qua eh secondo me ci stiamo avvicinando alla grotta oh attenta ci sono delle pigne vai passa passa prima te Rebby vai vai stiamo shh fate piano perché potrebbero esserci degli animali pericolosi shh è un mostro qua in tutto piano ok Rebby ci stiamo avvicinando eh ci stiamo addentrando ok questa è la parte giusta dobbiamo fare tutta questa stradina e arriviamo alla grotta forza forza andiamo veloce dai dai guardati siamo quasi deve essere qua nei dintorni vedi tutte le rocce che ci sono si wow deve essere qua nei dintorni andiamo la sotto andiamo ragazzi andiamo la sembra che ci sia il deserto si è vero guarda che bello stiamo andando alla grotta magica ragazzi siete pronti seguitemi stiamo addentrando nella grotta magica molly Rebby stai attento perché stai attenta perché ci potrebbe essere uno stregone ahhh eccola ragazzi adesso entriamo guardate l'acqua quante bella ok ecco si Rebby stiamo entrando stiamo entrando tra poco sarà tutto buio passiamo attenzione attenzione a dove mettiamo i piedi stiamo entrando guardate la strada blu c'è magica è la blu c'è eh guardate ragazzi siamo dentro la grotta ma c'è la luce è blu guardate si vede benissimo ecco molly che sta notando Grazie a tutti Guardate ragazzi qui all'ingresso della grotta che è pure un indolotto, quello è per i pirati Chissà se troveremo il tesoro, eh Rabbi? Eh, guardate qua com'è bella questa grotta Ok vai Rabbi, andiamo su, andiamo su Questa è una grotta magica, oh cavolo Aiuto ragazzi Oh eccoci, eccoci Siamo quasi arrivati alla grotta magica Eccoci Ciao Molly Ma non c'è niente, ma non c'è niente qua È così, è piccolina Mettiti lì a sedere Ma è piccola questa grotta Però guarda è bella, da qua si vede tutto il mare Eh si vede tutto Ecco qua La nuova casa dell'Arabia La nuova casa La nuova casa dell'Arabia Ecco la mia casetta Non abbiamo trovato il tesoro nascosto Ma sicuramente lo ritroveremo Quindi da noi e dalla Fuglia è tutto Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao